Sarà ancora una volta la Sala Riario ad Ostia Antica ad ospitare la quattordicesima edizione della stagione concertistica Willy Ferrero, organizzata dall'Associazione Arcangelo Corelli. Nuova stagione, quattordicesima stagione dei concerti dedicati al maestro Willy Ferrero, che riposa qui nel cimitero d'Ostia Antica. Quest'anno abbiamo il programma che va da ottobre fino a maggio del prossimo anno, sono 18 appuntamenti, sono due concerti di prologo e ne facciamo uno di inaugurazione il giorno 12 di novembre. Andiamo avanti fino a maggio, così come tutti gli altri appuntamenti che abbiamo avuto negli scorsi anni. Abbiamo fatto quest'anno il trentennale, siamo nati il novembre del 1993, quindi il 26 novembre di quest'anno facciamo il trentennale e facciamo un concerto particolare con la Signora Cecilia Norchestra, quindi sono professori di Santa Cecilia con quelli che sono già pensionati e ci sarà un bel concerto per violino e orchestra di Mozart e la quinta sinfonia di Beethoven. Oltre all'attività concertistica ricordiamo importante anche quella didattica. Sì, ricordiamoci che non è da sottovalutare la scuola di musica che abbiamo sempre avuto e siamo nati proprio con quella. La pandemia ci ha rallentato un po' il tutto, dovuto a cause che noi conosciamo bene tutti, e adesso siamo ospitati al Giovanni Paolo II. Quindi tutti i nostri insegnanti, bravi insegnanti di Ostia, di Roma, ma comunque qualificati da tanti anni che stiamo insieme, la scuola con i suoi corsi è al Giovanni Paolo II. E andiamo avanti, continuiamo questa bella iniziativa che va dalla scuola di musica fino ai concerti per le persone appassionate. Una intensa stagione concertistica che andrà avanti fino al 10 maggio del prossimo anno. Da Ostia Antica per Canale 10, Alberto Dabin. Grazie. Grazie. Grazie.